Ciao a tutti ragazzi, proprio in questo nuovissimo video, oggi siamo qui vi faccio vedere questo nuovo unboxing di spacchettamento pokemon delle card, delle pacchette che ho preso al Fanta Expo di Salerno ho visto che comunque questo è un set uscito nel 2023, cioè l'anno scorso apposta per Halloween, dolcetto scherzetto uscito solamente in inglese, in Italia non c'è però ho visto che su eBay si trova il set completo a 25-30 euro tutto quanto il set quindi ho deciso di comprare il set completo, che prenderò il set completo e di metterlo in collezione però un pacchetto me lo voglio tenere chiuso come ricordo, cioè come ricordo del booster quindi uno lo toglieremo, lo metterò da parte e ci devono aprire questi due ragazzi vedete, trick or treat, ci sono 3 additional game card perché il set si conclude con 30 carte e quindi ragazzi il set è piccolino what pokemon surprises hide inside halloween night apposta per halloween the pokemon international ah c'è anche il codicino per giocare online ragazzi che poi faremo lo spacchettamento di questi pack anche online sul gioco di carte pokemon visto che comunque ci gioco e lo andremo a portare insieme andiamo a vedere cosa abbiamo trovato ragazzi e io però non lo vedo il codicino amico qui non c'è allora si vuol dire che non c'è per l'online comunque abbiamo hondur vedete qui abbiamo questo pikachu con la zucca molto bello hondur uuuu trea mask ogre prone bellissimo ragazzi guardate qui che bello e poi abbiamo un trevanant bello con questo con questo qui con il simbolo di pikachu a forma di zucca per halloween questo è un set che si conclude in trenta carte è un'espansione comunque andiamo ad aprire la seconda bussa ragazzi una la voglio tenere chiusa andiamo ad aprirla pacchettozzo salvato così lo metto in collezione insieme a quest'altro chiuso ecco qua vedete bellissimo questi pacchetti comunque ragazzi questi li tengo e poi abbiamo trovato un altro hondur che metterò in vendita se varrà qualcosa poi abbiamo trovato un manchitori ragazzi e poi un poltergeist bello questo monkey d'ori qua vedete ragazzi bello molto bello si mi piace e qui un poltergeist comunque poi ragazzi vi farò vedere quando comprerò il set completo su amazon e su ebay vi farò vedere l'acquisto c'è il set tutto il set queste sono le carte che abbiamo trovato in questi due pacchetti ragazzi e niente mettete viaggio commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti